Nel marzo 22 ho coinvolto i comuni adiacenti al percorso della superstrada pedemontana. Con Bassano Capofila, Eschio e altri 11 comuni hanno presentato la domanda del bando come area urbana pedemontana. A giugno del 2023 la Regione ha assegnato 14 milioni di euro per finanziare i primi progetti. L'area urbana pedemontana è veramente una grande opportunità per il nostro territorio. Sono però convinto che la Bassano che ho lasciato con questi progetti deve tornare ad assumere un nuovo e diverso atteggiamento rispetto al territorio se vuole essere capofila. E visto che in arrivo ci servono tante risorse e tanti soldi, proviamo a pensare tutti insieme a un progetto di più ampio respiro, la rigenerazione urbana e interventi per il miglioramento ambientale, lo sviluppo del trasporto, dei collegamenti, della viabilità per i cittadini e le imprese. E non da ultimo la formazione qualificata per i nostri giovani per creare opportunità di lavoro nel nostro territorio.